ciao benvenuti su delta gaming qui è delta 89 le feste sono finite ed è arrivato il momento quindi di iniziare a fare un altro po di video non ho avuto modo di preparare ancora nulla per quanto riguarda gli eventi che sono avvenuti durante il periodo tra natale e capodanno volevo farlo in questi giorni ma abbiamo subito avuto molte notizie sui nuovi eventi che ci aspetteranno nelle prossimi nei prossimi giorni e settimane e quindi diamo priorità a questi in particolare oggi c'è stata data l'ufficialità e c'è stato rivelato che è iniziata una collaborazione un evento collaborazione tra plarium e monster hunter un franchise abbastanza famoso nell'ambito dei videogiochi in particolare monster hunter sono una serie di videogiochi in un contesto diciamo fantasy dove i vari personaggi protagonisti devono andare a combattere contro dei mostri molto grossi per cercare di sconfiggerli e poi acquisire materiali da loro potenziarsi eccetera eccetera quindi questi mostri possono essere equiparati un pochino ai nostri boss e possiamo vedere infatti che nei kit di questi campioni effettivamente si vede come le loro abilità vengano potenziate quando combattono contro i boss andiamo quindi a vedere questi campioni in particolare ne sono stati rilasciati ben cinque oggi ne andremo però a vedere solamente due che sono il campione gratuito che potremo ottenere tutti quanti facendo il login per sette giorni eccolo qui ratalos mentre poi andremo a vedere invece il campione che sarà ottenibile tramite l'evento di gennaio la fusione che sarà una fusione a frammenti quindi relativamente meno dispendiosa ma dobbiamo poi andare a studiare quando sarà rivelato qual è il calendario per capire quali eventi dovremo affrontare per poter ottenere quel campione e ovviamente vogliamo cercare di capire oggi se può valere o meno la pena investire in quel campione senza perdere tempo quindi cominciamo e andiamo a vederli in modo leggermente diverso dal solito perché sono già stati rilasciati nel gioco quindi possiamo andare direttamente a vedere da l'indice dei campioni e il primo eccolo qui ratalos blademaster e vediamo subito che un campione leggendario della fazione dei banner lord di tipo attacco e affinità forza vediamo quindi subito le sue stat base grosso vantaggio rispetto gli altri video che abbiamo fatto in passato quindi i suoi hp sono buoni per essere un campione di tipo attacco invece il suo attacco non è così elevato avrei sperato un 1550 per esempio diciamo ecco un buon campione di tipo attacco dovrebbe avere valori oltre 1500 anche se il suo kit sembra abbastanza compensare questa cosa anzi forse proprio per questo hanno dovuto ridurre il suo attacco altrimenti diventava davvero troppo forte la sua difesa invece è sorprendentemente abbastanza alta quindi sia i suoi hp sia la difesa sono abbastanza alte il che non è male perché gli permette probabilmente facilmente di scalare quelle stat e quindi sopravvivere un pochino più facilmente quando andrà a fronteggiare gli avversari la velocità è molto buona 105 e poi gli altri valori ovviamente i soliti andiamo quindi a vedere il suo kit partendo da la sua a1 attacca un nemico e ha un 50 per cento incrementabile al 65 per cento con i libri volendo con la maestria possiamo arrivare al 70 per cento di piazzare un 60 per cento riduci difesa su un avversario per due turni se quell'avversario è un boss questo debuff non può essere resistito il che è ottimo perché vuol dire che se noi andremo a buildare questo campione per combattere contro un boss è assolutamente la mia raccomandazione per questo campione non dovremo assolutamente preoccuparci della precisione mettetegli meno precisione possibile non preoccupatene per niente perché questo debuff non potrà essere resistito andiamo quindi avanti con la sua a2 dove attacca un solo nemico ma ogni due volte quindi una volta sì e una volta no a partire dalla seconda volta questa abilità sarà un eoi quindi sarà un attacco d'aria mentre la prima volta sarà un attacco singolo quindi attaccherete un campione singolo tutti i campioni un campione singolo tutti i campioni è un pochino sconveniente in arena perché vuol dire che il suo primo colpo sarà sicuramente un colpo singolo ma è molto utile in contesti soprattutto come l'idra anzi direi principalmente come l'idra perché è vero che faremo un'alternanza però quando andremo a eseguire l'attacco eoi sarà molto molto maggiore il danno che andremo a infliggere contro gli altri boss che sono generalmente singoli non ce ne preoccupiamo troppo perché sia che siamo io che sia colpo singolo la differenza non sarà elevatissima la parte però davvero importante di questa abilità la seconda perché lui ignorerà il 25 per cento della difesa contro i normali avversari ma ignorerà il 100 per cento della difesa contro i boss e questo è incredibile vuol dire che lui con questa abilità fa sempre danno puro a tutti i boss e poi andremo a vedere meglio quella sua passiva abbiamo la possibilità di renderlo enormemente più grande quindi davvero davvero interessante come abilità questa abilità sicuramente può essere molto utile sia con l'idra che per esempio con il clan boss che in generale con tutti gli altri boss del gioco in particolare io questo campione sarei curioso di provarlo contro i da clan boss andiamo avanti con la sua 3 attacca tutti i nemici quindi questa è un eui sempre prima di attaccare piazzerà incremento danno critico e velocità su di lui attenzione solo su di lui per due turni e questo a me piace molto quello che non mi piace sono i campioni che si mettono incremento tasso critico e danno critico perché alla fine andremo comunque a buildarli col 100 per cento di tasso critico quindi a quel punto quel 30 per cento di incremento in più va sprecato è solo per avere un buff in più semmai dovesse servirci un buff in più per attivare qualche passiva di qualche campione questi buff in questo modo hanno molto più senso incrementare il danno critico quindi assumendo che abbiamo già per conto nostro il 100 per cento di tasso e darci a quel punto un incremento velocità non è male l'unico problema è che mettere incremento velocità su di lui se siamo contro l'idra va benissimo se siamo contro il clan boss dobbiamo stare attenti e studiare bene con il simulatore per valutare attentamente la sincronia della sua velocità con il resto del team ed evitare di perdere la sincronia quindi lo renderà leggermente più complicato da buildare da quel punto di vista sia questa abilità che la sua 2 sono entrambe abilità su quattro turni che possono essere ridotte a tre turni utilizzando i libri quindi noi avremo il classico la classica situazione in cui andrà a eseguire la sua 3 la sua 2 la sua 1 e poi a rotazione le riseguirà sempre tutte e tre ciclando una dopo l'altra questo anche importante perché dobbiamo vedere cosa dice la sua passiva la sua passiva ci dice che lui infliggerà il 50 per cento più danno contro i nemici che sono sotto brucia hp e allo stesso tempo riceverà il 25 per cento meno danno dai nemici che sono sotto brucia hp brucia hp contro il clan boss non è comunissimo anche se se avete la possibilità di metterlo sono sempre più danni quindi non è mai male però non è davvero così determinante mentre contro l'idra è un debuff molto molto valido quindi cerchiamo di averlo se lo andiamo a buildare quindi a portare quindi in un team contro l'idra nel quale siamo in grado di mettere brucia hp su tutti gli avversari lui sarà davvero in grado di beneficiarne perché andrà a incrementare il proprio danno in modo molto rilevante e anche a mitigare il danno subito contro il clan boss ci interessa anche di meno soprattutto perché è vero che possiamo incrementare il danno e quello sicuramente utile ma andarlo a mitigare ci interessa poco perché molto probabilmente avremo un team inammazzabile o col blocco danno quindi a quel punto mitigare il danno non ci interessa molto la parte molto interessante l'ultima ogni quinto colpo anzi ogni quinta abilità utilizzata da questo campione infliggerà 200 per cento di danno in più se abbiamo capito come ciclano le abilità ovviamente la prima volta noi andremo a fare quindi a 3 a 2 a 1 a 3 a 2 e la prima volta che useremo per la seconda volta la sua 2 quando sarà un eoi andremo a incrementare il danno del 200 per cento poi andremo di nuovo a fare a 1 a 3 a 2 a 1 a 3 e sarà la 3 che verrà incrementata e la volta dopo sarà la 1 quindi ciclerà tra queste abilità anche qui ovviamente poi se abbiamo maestrie che vanno a cambiare il cool da resettare il cool down o campioni che vanno a resettare il cool down potrebbe modificare la periodicità con cui questo avviene però se ci facciamo i conti sappiamo che la prima volta avverrà sulla sua 2 poi sulla sua 3 e poi sulla sua 1 e così continuerà a girare sicuramente questa passiva gli permetterà di fare davvero davvero molto danno quindi è un campione che diciamo mi piace i suoi moltiplicatori non sono pazzeschi però non sono neanche per niente male se andiamo a vedere la sua a 1 ha come moltiplicatore un 3,2 ma quello che ci interessa più di tutti è la sua a 2 che ha un moltiplicatore di 4 4 non è altissimo considerando che è un attacco singolo però poi può diventare un EOI e a quanto pare se attacca EOI rimane 4 quel moltiplicatore quindi se la consideriamo come un EOI un moltiplicatore 4 su un danno puro è un ottimo moltiplicatore su un attacco singolo invece sarebbe potuto essere anche leggermente più alto un 5 non ci sarebbe dispiaciuto per quanto riguarda la sua a 3 invece il suo moltiplicatore è leggermente più alto ma di un nulla 4,1 però questa abilità non è in grado di fare danno puro quindi in realtà la sua a 2 sarà l'abilità che davvero porterà la maggior parte di danno infine concludiamo con la sua aura che è un'aura di incremento attacco nei dungeon del 30% che è alta e come ho visto anche sugli altri campioni concentrata per i dungeon sia lui sia il campione che andremo a vedere adesso che il campione della fusione sicuramente Radalos un'ottima aggiunta nel nostro account sicuramente potremo utilizzarlo sicuramente ci porta cose molto interessanti il riduci difesa sui boss è una cosa davvero molto utile soprattutto perché non è resistibile ovviamente non è al 100% è un 65 70% però se siamo abbastanza più veloci del boss dovremo riuscire a tenerla su di lui quasi tutto il tempo quindi più che felice di avere questo campione nel mio account andiamo adesso invece a vedere qual è il prossimo quello che probabilmente ci interessa di più no non è qui è uno shadowkin eccola qua zinogre blade master lei è il campione che potremmo ottenere dalla fusione devo dire che tra tutti i campioni di questa fusione lei non è quella che mi fa più impazzire il suo kit ha degli aspetti interessanti andiamo adesso a valutarli anche lei è un campione di tipo attacco questa volta di affinità magia le sue stat anche qui non sono male abbiamo un 17000 di hp che non è assolutamente male l'attacco è 1465 anche qui avrei voluto fosse più di 1500 ma purtroppo così non è anche se le sue abilità vanno anche loro a compensare un pochino questo e la sua difesa è un po inferiore al 1000 anche qui è più simile a quello che ci aspettiamo da un campione di tipo attacco normalmente una difesa inferiore al 1000 la sua velocità 104 anche qui è molto buona e gli altri valori i soliti andiamo quindi a vedere la sua a1 attacca un nemico tre volte è a un 30 per cento di possibilità non su ogni colpo da quello che abbiamo capito quindi è un 30 per cento e basta di mettere 25 per cento di indebolimento sull'avversario una caratteristica di questo campione è che lei esegue tanti colpi multipli questo ovviamente la porta subito a essere adatta in contesti come il cavaliere pirico quindi abbiamo visto la sua 1 andiamo a vedere la sua 2 attacca un nemico quattro volte ogni colpo incrementerà la barra turno di questo campione del 5 per cento il che vuol dire che incrementerà la sua barra turno del 20 per cento ogni volta che utilizza questa abilità inoltre piazza un 30 per cento di incremento velocità su tutti gli alleati per due turni quindi a differenza di ratalos lei piazzerà questo buff su tutti i compagni per due turni anche qui attenzione se andiamo utilizzare nel clan boss questo 20 per cento di barra turno che lei si dà è da valutare per assicurare la sincronia dei suoi turni con quelli del resto della squadra i moltiplicatori nel caso direi sono un pochino più difficili da gestire perché ovviamente i suoi colpi sono moltiplici quindi dobbiamo un attimo andare a moltiplicare il suo moltiplicatore per il numero di colpi che andrà a infliggere nel caso della sua 2 abbiamo un moltiplicatore di 1,4 quindi che per quattro colpi è equivale a un 5,6 sono sullo stesso bersaglio non sono a caso il che almeno ci permette di essere sicuri che andremo a infliggere tutti su sullo stesso nemico e sicuramente è un vantaggio rispetto ai campioni appunto che fanno danno a caso anche per la sua 1 il moltiplicatore è di 1,2 che per tre colpi è un 3,6 non sono male ma non sono neanche così alti in realtà perché sono tutti comunque colpi su bersaglio singolo e infine andiamo a vedere la sua a 3 attacca un nemico per quattro volte prima di attaccare piazzerà un 50 per cento incremento attacco su di lei per due turni questo non è per niente male perché le permetterà di fare molto più danno e poi con il primo attacco con i primi due colpi avrà un 75 per cento di possibilità che possiamo incrementare al 100 quindi avremo un 100 per cento di possibilità di piazzare sanguisuga per due turni con il terzo e con il quarto sempre utilizzando i libri avremo un 100 per cento di possibilità di piazzare un 50 per cento riduce attacco per due turni adesso avere il 100 per cento su due colpi potrebbe sembrare non conveniente non utile però in realtà ci aiuta in due circostanze una se stiamo contro avversari con affinità più forte della nostra perché se su uno dei due colpi faremo un colpo debole magari è meno probabile che lo faremo su entrambi i colpi quindi se almeno uno dei due colpi riesce a non essere un colpo debole riusciremo a piazzare il debuff e poi ovviamente sappiamo che non esiste mai il 100 per cento perché esiste sempre un 3 per cento di possibilità che l'avversario resista perché non sono irresistibili questi debuff quindi in realtà è sempre un 97 per cento che però su due colpi dovrebbe diventare un 98,5 per cento di probabilità quindi va a ridurre comunque la possibilità di essere resistiti sicuramente il riduce attacco e l'incremento attacco ci possono far comodo la sanguisuga dipende in che contesto stiamo se stiamo in un team che va contro un boss sicuramente ci aiuta mantenere in vita la nostra squadra quando attacchiamo se andiamo però contro il clan boss in particolare in realtà se abbiamo un team inammazzabile o con blocco danno avere il sanguisuga ci aiuta molto poco anzi molto probabilmente se andiamo a vedere la sua passiva in realtà non lo vogliamo assolutamente il leech perché vorremmo che lei abbia degli hp relativamente bassi poi in realtà non dovrebbe comunque essere un problema perché lei non sarà in grado di curarsi abbastanza da perdere l'effetto della sua passiva quando andrà a eseguire il suo turno contro il clan boss a meno che non le facciamo eseguire due o forse addirittura tre turni ogni turno del clan boss quindi se andiamo invece a far girare con una velocità 1 a 1 o forse 2 a 1 non lo so dovrebbe comunque rimanere sotto la soglia e quindi dovrebbe andare bene andiamo quindi a vedere questa sua passiva che ha due parti una parte passiva pura e una parte attiva la parte passiva che quindi si verifica sempre incrementa il danno di questo campione di un per cento per ogni un per cento di hp che ha perso fino a un massimo del 50 per cento quindi se voi avete meno del 50 per cento o fino al 50 per cento dei vostri hp sarete in grado di incrementare il vostro danno del 50 per cento e ovviamente per questo avere un team inammazzabile con lei è molto comodo perché vuol dire che lei sarà fissa a un hp sostanzialmente che è meno addirittura dell'un per cento e questo permetterà di massimizzare il suo danno al contrario se la portate in un team blocco danno o un team magari con protezione alleati quindi un team di tipo tradizionale in cui in quel caso sanguisuga vi fa molto comodo se però mantenete i suoi hp costantemente superiore al 50 per cento andrete a perdere un pochino del danno che lei è in grado di fare quindi anche lì bisogna valutare con attenzione in che team la si porta per poterla sfruttare al meglio per quanto riguarda l'effetto attivo lei previene la morte di questo campione e la tiene in vita con un hp quando viene colpita da un colpo fatale ovviamente questo avviene ogni quattro turni quindi se subite un colpo fatale più frequentemente di ogni quattro turni lei andrà a morire se questa skill avrà successo nel mantenerla in vita allora lei si curerà anche di un 50 per cento dei suoi hp quindi sopravvivere a colpo fatale e si riporta subito a 50 per cento di hp che è il valore per il quale poi abbiamo anche il suo massimo danno tutto questo però non avverrà se lei sarà sotto un debuff riduci cura che non mi sembra ci sia nessun non mi viene in mente nessun boss che in realtà ci crea questo problema però magari ci sono magari in pvp potremo sfruttare questa cosa per impedire di sopravvivere al nostro attacco non mi sembra una cosa che ci possa dare troppi problemi al momento magari commentate voi qui sotto e fateci sapere se per caso c'è un contesto del gioco in particolare in cui questo può essere un problema per noi come ultima cosa andiamo infine a vedere la sua aura che è forse dal mio punto di vista la cosa più interessante del suo kit perché ci dà un incremento velocità del 30 per cento in tutti i dungeon se andiamo a vedere il suo kit sembra molto focalizzato per il cavaliere pirico e anche se sicuramente sarà molto utile per voi se dovete ancora sconfiggere il cavaliere pirico a difficoltà normale se pensiamo al cavaliere pirico a difficoltà tosto la sua aura ci aiuta molto perché avere un team molto veloce è essenziale quindi sicuramente la sua aura è la parte più importante del suo kit dal mio punto di vista più che i suoi attacchi multipli ma i suoi attacchi multipli ovviamente ci aiutano molto a togliere lo scudo poi in realtà lo scudo dobbiamo toglierlo la prima volta se poi il nostro team è abbastanza veloce e con i campioni giusti il cavaliere pirico non eseguirà più un turno quindi a quel punto il fatto che lei faccia attacchi multipli ci aiuta di meno e anche il fatto che dobbiamo avere meno hp del 50 per cento potremmo non riuscire a sfruttarlo benissimo quindi in realtà non la vedo così determinante per il cavaliere pirico a tosto sicuramente può aiutare assolutamente può aiutare ma non la vedo così determinante in altre aree del gioco sono curioso di vederla contro il clan boss mentre non mi vengono in mente oltre queste due aree in cui lei possa essere davvero determinante poi sicuramente si comporterà bene contro la maggior parte dei boss del gioco perché comunque mettere riduce attacco ci aiuta incremento velocità su tutta la squadra ci aiuta gli attacchi multipli oltre il cavaliere pirico non credo ci servano è un po' limitata dal fatto che sia un campione che attacca solo un singolo bersaglio il che la rende un pochino unidimensionale per quanto riguarda i boss possiamo sfruttarla quasi solo contro di loro e direi principalmente nei dungeon però ovviamente magari andando a testarla potremo scoprire qualcosa in più per quanto riguarda i test che ho visto finora nulla mi ha impressionato se non il suo danno contro il clan boss che non sembra essere male per niente però dobbiamo riuscire a sincronizzare correttamente le sue velocità non sarei intenzionato a fondere questo campione a ottenerlo se non per il fatto che la sua aura è molto buona e cosa che non ho ancora detto questo evento collaborazione terminerà il 5 marzo se non sbaglio quindi abbiamo due mesi praticamente e al termine di questo evento i 5 campioni non saranno più disponibili quindi se li otteniamo adesso li avremo nel nostro account se non li otterremo in questi due mesi non saremo più in grado di ottenerli un pochino come è successo per ninja e quando ninja è uscito tutti abbiamo pensato che era un buon campione ma non avevamo realizzato quanto davvero sarebbe stato un campione indispensabile per molte aree del gioco o più che indispensabile diciamo fondamentale e utile in tante aree del gioco e vorrei evitare di rifare lo stesso errore in questo caso quindi perdere un campione come lei adesso e scoprire che poi sia un campione determinante in alcune aree del gioco sarebbe davvero un peccato quindi vedrò valuterò il suo calendario o in generale abbastanza risorse nel mio account per fronteggiare una fusione quindi se non dovessi avere problemi magari proverò a farla anche se se non ci fosse questa condizione che non c'è altro modo poi per ottenere questo campione molto probabilmente avrei saltato questa fusione ecco questo è più o meno la mia opinione su di lei fateci sapere adesso voi qual è la vostra opinione sia su zinogre che su ratalos se vi piacciono questi campioni se vi interessa investire in questa fusione e settimana prossimo in questo weekend cercherò anche di parlare degli altri campioni che sono stati rilasciati insieme a questi due con questo concludo il video di oggi come al solito vi ricordo di lasciare un like su questo video iscrivervi al canale raggiungeci su discord e commentate qui sotto cosa ne pensate con questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video vi ricordo